Il lavoro è molto lungo da fare, abbiamo parlato di un lavoro decennale, di opere molto difficili da realizzare che richiedono molto tempo, ma se non inizi mai non finisci mai. I Consorzi Bonifica oggi hanno presentato alcune opere importanti per il Paese, alla luce anche di quelli che sono i dati dell'ISPRA sul dissesto idrogeologico, un elenco che ha delle priorità naturalmente. Uno degli elementi nuovi di questa nuova programmazione che noi abbiamo è proprio che lavoriamo insieme, tutti coloro che si occupano del sistema, penso alle autorità di Bacino, ai geologi, all'ambi, all'agricoltura in generale. Si lavora insieme e si collabora anche per identificare le priorità.